Grazie a studio. Allora apriamo questa parte dedicata un po' al commento della politica, ma non solo. Apriamo parlando di sanità. Ricordate quello che è accaduto ieri, ci sono stati degli interventi da parte dell'Asp in risposta al sindaco Aiello sul fatto che il sindaco si era lamentato di una difficoltà che non può essere negata. Però attenzione, questa è la verità, non può essere negata negli ospedali di tutta la provincia. Il sindaco Aiello si era anche un po' arrabbiato perché l'Asp lo aveva richiamato e il sindaco ha detto io ho diritto a parlare della situazione in cui si trova la mia città, essendo il responsabile della sanità, il primo cittadino e il responsabile della sanità locale e quindi spero che vi ci mettiate di buzzo buono a cercare di risolvere questi problemi. Questo problema lo sappiamo, non è facile, mancano i medici del pronto soccorso, si è tentato di tutto, concorsi, offerte economiche maggiore. Anche questa è una cosa che si è tentata, addirittura si è fatto il calcolo che in alcune zone della Sicilia ci sarebbero medici che avrebbero guadagnato più di 500 euro al giorno se avessero accettato certi incarichi. Però purtroppo poi alla fine la medicina d'urgenza, così viene chiamata, è abbastanza difficile, ci sono molte responsabilità. La gente preferisce alla fine fare altre branche della medicina piuttosto che impegnarsi in una cosa così delicata come può essere la medicina d'urgenza e il pronto soccorso dove si rischia molto, dove si rischia anche molto perché si deve agire velocemente, ci vuole una grande determinazione, grande preparazione perché poi alla fine c'è davvero il rischio di sbagliare e di mettere in difficoltà qualche malato. Quindi l'ASP oggi ha scritto nuovamente, ha mandato un altro comunicato dicendo va bene, speriamo che tutto venga sistemato, lungi da noi dice l'ASP di mettere in difficoltà i sindaci o richiamare i sindaci. Vi assicuriamo che tutti stiamo lavorando per la sicurezza di tutti i cittadini. e fa riferimento anche ad un altro punto serio che è il PTE, cioè il punto di pronto assistenza di Pozzallo. Pozzallo è una grande città, non ha un ospedale e quindi si basa tutto su una specie di guardia medica migliorata, con più organizzazione. Però da tempo si cerca di fare questo sistema, di fare quasi un piccolo ospedale. Però ci sono tanti ritardi, il sindaco di Pozzallo a Matuna ha chiesto spiegazioni, l'ASP dice che questi ritardi sono dovuti a fatti burocratici nazionali, non ci sono altri problemi e quindi anche questo pronto soccorso migliorato di Pozzallo funzionerà presto perché si dovrebbero superare tutti i vari problemi e i finanziamenti ci sono. Quindi questa è la notizia per quanto riguarda la sanità. Ma andiamo a parlare di politica e andiamo per ordine perché vi parlavamo dell'incontro che c'è stato ieri a Modica, ieri sera verso le 19.30, noi abbiamo mandato qualche immagine ma non il servizio perché ormai era tardi. Ora sentirete le interviste, l'intervista fatta a Ignazio Abbate. In pratica è stato il momento per presentare il programma che Ignazio Abbate ha sottoposto alle persone che erano lì ma che sottopone a tutti i cittadini. Modica attende e crede molto in Ignazio Abbate perché da tempo non c'è un deputato regionale, a Modica c'è anche il deputato nazionale, anzi a proposito è stata una piccola polemica perché è venuto in Sicilia Salvini e non poteva certo fare a meno di andare a trovare il suo segretario regionale Nino Minardo. Qualcuno si è lamentato, dice che Salvini è un razzista, c'è la questione degli sbarchi ma è una questione che viene affrontata da tanto tempo e credo che comunque sia il momento di trovare una soluzione. Ora magari non è quella giusta quella di Salvini quando faceva i blocchi navali ma certo bisognerà provvedere anche perché soprattutto oggi arrivano immigrati che non sono persone che vengono da una guerra ma vengono dal Marocco, vengono dalla Tunisia dove assolutamente non c'è nessuna guerra e quindi sono quelli che vengono chiamati immigrati economici ma tutto questo è naturale che crea una serie di difficoltà, il caporalato, il lavoro che viene dato a prezzi pagando pochissimo perché c'è troppa manodopera e su questo bisognerebbe intervenire certamente. Allora dicevo, ritornando alla convention modicana, noi eravamo lì, abbiamo fatto delle riprese da notare, non so se poi si vede nelle immagini che per esempio fra la gente c'era anche Mario D'Asta dice che vuol dire, non vuol dire assolutamente nulla, non c'è nessuna dichiarazione ufficiale Mario D'Asta è andato via dal PD proprio qualche giorno fa con una lettera in cui spiegava le sue motivazioni e ora a questo punto era lì con i Giaziabate ma non sappiamo, poteva essere anche un po' di curiosità e vedere come vanno le cose. Allora sentiamo i servizi.